Cari amici eccoci qua, vediamo come sarà il tempo in questo post San Martino, quindi dopo San Martino, ancora caratterizzato da nuove nuvole che risaliranno da nord. Non escludiamo nella prima parte del giorno qualche goccio piovasco possibile, locale, vedete le zone a maggior rischio di qualche goccia, ma più che altro nella prima parte del giorno, al mattino, poi vedete senza precipitazioni queste nuvole irregolari che attraverseranno ancora il nostro territorio, foschie locali banchi di nebbia come al solito. Le temperature le massime tra i 13 e i 15 gradi, le minime invece saranno quasi dappertutto al di sotto, seppur non eccessivamente, ma comunque al di sotto dei 10 gradi centigradi. Io mi fermo qui, buon inizio di weekend, ci riaggiorniamo presto, arrivederci. Grazie.